Vere e proprie colline di rifiuti, alte quanto tre piani di un palazzo e con un'estensione totale pari a circa tre campi di calcio. Gli uomini della Forestale, in collaborazione con gli agenti della Polizia Provinciale, ne hanno sequestrate tre all'interno del perimetro di una cartiera a Carnello di Sora, il tutto a pochi metri dal fiume Fibreno. Questo tipo di situazione è collocata all'interno di un'area che ha un contesto ambientale di pregio molto significativo, l'area sensibile per la legione Lazio, ma l'area vincolata dal punto di vista paesaggistico è essenziale a legge Calasso. Secondo i primi rilievi effettuati, in quelle aree sequestrate vi erano anche rifiuti pericolosi e di natura diversa da quella relativa al ciclo produttivo della cartiera. Parte di quella immondizia inoltre è stata interrata, per questo nella zona saranno effettuati scavi per capire la natura di quei rifiuti. Abbiamo individuato questa vera e propria collina di rifiuti, è un frammista a terra, quindi le nostre ipotesi sono anche indirizzate a verificare se le colline circostanti siano anche esse interessate da fenomeni di interramento di rifiuti. Lo stabilimento è stato sequestrato, mentre l'amministratore della cartiera è stato denunciato. L'ipotesi investigativa è che quelli guami prodotti dai rifiuti si siano riversati nel fiume con un danno ambientale evidente. Un danno grave che si stava consumando in maniera probabilmente cospicua da qualche mese minimo e quindi chiaramente nell'istante in cui è emersa la notizia di reato per questo controllo del corpo forestale con la polizia provinciale abbiamo attivato all'istante le nostre capacità. Ho ritenuto di dover chiedere insieme al procuratore facente funzione il sequestro preventivo al GIP. Gli uomini della forestale e quelli della provinciale hanno trovato anche tracce di rifiuti bruciati. Le modalità di smaltimento e la quantità di rifiuti ammassati fa alzare la guardia agli inquirenti. Siamo in una zona particolarmente vicina a territori in cui si è dimostrata la piena pericolosità di scariche non autorizzate e comunque dalla commissione di reati di questo tipo addirittura con infiltrazioni. Parlo della Campania e quindi l'attenzione di un ufficio di procura come la procura di Cassino deve essere particolarmente alta. Noi consideriamo una trincea, possiamo usare questo termine, una trincea agli uffici di procura che devono particolarmente vigilare su queste situazioni. E questa è una situazione, quella di oggi, particolarmente grave ma non unica. Grazie a tutti.